87 equipaggi, 13 in più dello scorso anno, iscritti alla 21esima edizione del Rally d'Italia-Sardegna, sesto appuntamento del campionato del Mondo Rally 2024 della FIA, in programma dal 31 maggio al 2 giugno, valida anche per il WRC 2, il WRC 3 e il Mondiale Junior. Quartier generale Alghero, la gara è composta da tre tappe e prevede un totale di 16 prove speciali per complessivi 266 chilometri cronometrati. Saranno in totale 33 le nazioni rappresentate, un nuovo record per la manifestazione. Al via una nutrita rappresentanza, 21 equipaggi italiani, dei quali 8 sono sardi. Tra loro ci sarà in primis Francesco Marrone, l'unico pilota da aver partecipato a tutte le 21 edizioni, su Peugeot 208 T16 con Francesco Fresu come navigatore. Al via anche Giuseppe Dettori ha la sua diciottesima partecipazione con Carlo Pisano su Skoda Fabia e poi Mura De Montis, Skoda Fabia, Liceri Mendola su Ford Fiesta R3, Bianco Mazzone, Renault Clio R3 ed infine Puget Ducotto, Schirrussalis e Maratendas, tutti su Peugeot 208 R4. Puget Ducotto, Schirrussi, 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 Schirrussi.